In sedia oggi Francesco Mola, sessantesimo rettore dell'Università di Cagliari, eletto il 15 dicembre scorso con oltre il 90% delle preferenze. Succede a Maria Del Zompo che ha guidato l'Ateneo dal 2015, il nuovo rettore che resterà in carica fino al 2027, a 59 anni, ordinario di Statistica alla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche e insegna all'Università di Cagliari dal 1998. È stato direttore del Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali prima di assumere il ruolo di prorettore vicario.